Benvenuti al corso di guida sicura della Calcagni Drive School. Mi presento, il mio nome è Gianluca Calcagni e sarò il vostro formatore per tutta la lezione di teoria. Nel corso di formazione di guida sicura sarà fondamentale stabilire gli obiettivi di un corso, che sono quelli di sviluppare la percezione del rischio e la cultura della prevenzione, sottolineare l'importanza del fattore umano, migliorare le competenze, potremmo dire la conoscenza più gli esercizi, gli esercizi che sono la simulazione di perdite di aderenza, manovre di emergenza con asfalti, cementi, resina per abbassare il coefficiente di aderenza e quindi aumentare le difficoltà dell'esercizio, incrementare le buone pratiche di guida, identificare l'opportunità di migliorarsi.